Partono le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2018-2019. Da ieri le famiglie possono registrarsi al portale del MIUR www.iscrizioni.istruzione.it dedicato alle iscrizioni per le classi prime delle elementari, medie e superiori. Quasi un milione e mezzo gli studenti interessati, il che significa circa 3 milioni di genitori coinvolti nell'operazione e di questi molti nella scelta degli indirizzi delle superiori. 7.833 furti e 140 rapini in un anno in tutta la provincia di Ferrara con 88 persone arrestate. Questi dati forniti questa mattina dal nuovo questore di Ferrara Giancarlo Pallini, affiancato dal capo di gabinetto Pietro Scroccarello e da due nuovi funzionari appena arrivati a Ferrara. Il commissario capo Alberto Bonaretti, nuovo dirigente della Digos e Teresa Mancinelli al suo primo incarico presso l'ufficio del personale. È iniziato ieri il rilascio da parte dell'ufficio anagrafe del comune di Ferrara della nuova carta di identità elettronica. Lo hanno annunciato in conferenza stampa l'assessore Simone Merli e il dirigente dell'ufficio anagrafe Gianluca Carpanelli. Buona serata, queste dunque le nostre principali notizie dell'edizione odierna del TV giornale. Avete sentito che tra le varie si è parlato di sicurezza e apriamo proprio in questo modo l'edizione di questa serata. Rassicurare la città sul fatto che ci siamo, su tutto quello che a Ferrara provincia può interferire con la vita serena dei cittadini. Era questo l'obiettivo dunque della conferenza stampa convocata questa mattina dal questore di Ferrara che ha intervenuto sul tema della sicurezza dallo spaccio ai grandi eventi. È anche fornito le cifre dell'attività della Polizia di Stato in provincia di Ferrara nel corso dell'ultimo 2017. Sentiamo. 7.833 furti e 140 rapine in un anno in tutta la provincia di Ferrara. 88 persone arrestate. A fornire i dati nel corso di una conferenza stampa indetta per fare il punto sulla sicurezza sul territorio è il nuovo questore di Ferrara Giancarlo Pallini. Affiancato dal capo di gabinetto Pietro Scroccarello e da nuovi funzionari appena arrivati a Ferrara, il commissario capo Alberto Bonaretti, nuovo dirigente della Digos e Teresa Mancinelli al suo primo incarico presso l'ufficio del personale. Arrivato a fine novembre Pallini ha voluto rendere nota l'attività della Polizia di Stato nel corso delle festività natalizie ma anche durante il resto dell'anno. Le cifre parlano di fenomeni in calo rispetto a qualche anno fa come le rapine in banca, due in tutto il 2017 in provincia, nessuna in città. Mentre restano importanti i numeri dei reati predatorio contro la persona, furti e rapine per intenderci. Nelle abitazioni sono stati 1.086 in tutta la provincia, 322 solo a Ferrara, 1.093 sulle auto in sosta e 671 negli esercizi commerciali. Quanto alle rapine in tutto 140 in provincia, 80 in città, 12 sono state in casa, 24 negli esercizi commerciali e 80 in strada. Ed è proprio alle persone che subiscono questo tipo di reato, quasi 8.000 mettendo insieme furti e rapine in città e provincia, che, ha detto il questore, occorre dare una risposta. Come è avvenuto due giorni fa, quando in centro città una signora è stata derubata dal portafoglio e gli agenti delle volanti intervenuti in pochi minuti sono riusciti a bloccare il ladro e restituire alla donna il portafoglio. La sicurezza passa dalla presenza, dalla prevenzione e dal contrasto delle attività illecite, non solo nelle zone sensibili, come la GAD, dove comunque i controlli sono intensificati e nel solo periodo natalizio sono stati eseguiti 11 servizi straordinari, ma in tutta la città. La sicurezza inoltre va garantita anche nei momenti di divertimento, come avvenuto per il Capodanno in piazza, dove 30.000 persone hanno potuto assistere in tranquillità allo spettacolo dell'incendio del castello, o come avviene, ha aggiunto il questore, per le partite di calcio. Per quelle particolarmente delicate, infatti, come ad esempio l'ultima, Spallazio, viene fatto un grande lavoro di prevenzione affinché nulla succeda. Infine è stato ricordato anche il grande lavoro dietro le quinte della divisione amministrativa e sociale, con 7.648 passaporti rilasciati, 13 decreti per un totale di 222 giorni di sospensione licenze a pubblici esercizi per motivi di sicurezza, 65 fogli di via, 61 avvisiorali, 12 ammonimenti per violenza domestica, 12 per stalking e 20 d'aspo sportivi. Una sicurezza dunque che deve essere per tutta la città, ha ribadito il questore Pallini, sottolineando come le aree critiche vadano trattate come tali, ma senza che questo voglia dire trascurare il resto del territorio. Poi ha parlato anche di contrasto allo spaccio e della necessità di lavorare sulla cultura della legalità tra i ragazzi. Infine la soddisfazione per la buona riuscita del Capodanno in piazza all'insegna di una tranquilla sicurezza. L'attenzione deve essere rivolta a tutta la collettività e ad ogni parte del territorio per scoraggiare attività illegali che poi possono spostarsi da una parte all'altra. Quindi non soltanto la gadda, la quale comunque abbiamo destinato un grande sforzo in questo mese di dicembre con 11 servizi straordinari solo della Polizia di Stato, per poi considerare quello delle altre forze di Polizia, centinaia di identificati, una costante presenza anche in relazione a quel brutto episodio che ha visto come protagonista la ragazza una sera in piazza 24 maggio. Questo non significa abbassare l'attenzione in altri settori e in altri contesti territoriali perché tutti i cittadini di Ferrara e la città di Ferrara e provincia devono avere la stessa attenzione per impedire il proliferare di fenomeni criminali, specialmente allo spaccio dei stupefacenti. Un fenomeno, quello dello spaccio, che va contrastato su più fronti. Uno di questi è la scuola. I ragazzi vanno educati alla legalità più che controllati con i cani antidroga, ha detto Pallini, che ha ribadito come sia importante un lavoro di squadra su questo fronte così importante. Il fenomeno si può contrastare incidendo sia sull'offerta e quindi sui grandi trafficanti internazionali con attività di carattere specialistico che la Polizia di Stato svolge a tutto tondo, sia sotto un profilo di spaccio al minuto con la prevenzione, la presenza, il contrasto nell'immediato, sia sotto un profilo di educazione alla legalità. In questo la nostra attività è una parte di quello che la società intera può offrire, dalla scuola, alle famiglie, alle istituzioni, ad altre istituzioni, alle forze dell'ordine. Tutti quanti devono contribuire a scoraggiare questo fenomeno e impedirne il proliferare. Infine la soddisfazione per la buona riuscita del Capodanno in piazza, ma anche delle partite delicate, giocate in casa dalla SPAL, all'insegna di una tranquilla sicurezza. Garantire la tranquillità allo spettatore dell'evento, sia per le partite di calcio che per il grande evento di Capodanno che è andato bene proprio per il lavoro certosino fatto dalla Prefettura, dalle forze dell'ordine, dal Comune, dagli organizzatori, tutti che hanno contribuito per la propria parte di competenza a realizzare delle condizioni di sicurezza senza invadere quella sfera di libertà personale del cittadino che poi gli impedisce di vivere a pieno l'evento. Questo è l'obiettivo per tutti i grandi eventi. Tra i problemi dunque anche quello dello spaccio della droga, ma come si fa per fermare lo spaccio di droga e come si può prevenire il consumo degli stupefacenti tra gli adolescenti? A queste domande ha provato a rispondere anche un report del Parlamento europeo. Vediamo che cosa è emerso. Ronde contro gli spaccini di strada a Padova nel quartiere vicino alla stazione, residenti che grazie all'aiuto della chat a Parma tengono monitorato il centro storico della città emiliana da troppi anni al centro dello spaccio della droga, tanto che la centralissima Piazza della Pace, ormai chiamata Piazza della Coca. E poi l'iniziativa di un gruppo di commercianti a Bologna a autotassarsi per pagare un vigilantes che protegga i negozi della Bolognina, il quartiere più molto etnico del capoluogo emiliano. Sono solo alcune delle iniziative che in questi anni i cittadini, esasperati dallo spaccio della droga in città, ha ritenuto di dover adottare per fermare un fenomeno che mai come oggi è presente anche nella nostra città di Ferrara. E anche in città le iniziative per fermare lo spaccio, soprattutto in zona gada, non sono mancate. Il lavoro delle forze dell'ordine è importante e prezioso, ma purtroppo non sempre sufficiente. Ecco perché nel 2014 un'azienda di vigilantes ha aperto un ufficio proprio in zona Piazza Castellina per offrire un servizio di sicurezza ai condomini che nella zona ritenessero di dover pagare una guardia che li salvaguardasse dallo spaccio. E poi si sono moltiplicate le iniziative in bicicletta dei residenti che, soprattutto nella zona fra via Piave e via Cassoli, avevano come obiettivo quello di fermare la vendita a cielo aperto della droga nella zona. Il fenomeno da allora purtroppo è dilagato, ora lo spaccio è ancora più diffuso sulle mura, soprattutto nel tratto che riguarda Viale Belvedere, nelle mura di Portapo e adesso si aggiunge anche il centro storico, forse perché gli spaccini si sentono troppo osservati in zona Gad e quindi preferiscono agire in zone meno controllate e più frequentate dalla gente. Se esiste lo spaccio è perché esiste il consumo che in modo vertiginoso è cresciuto soprattutto negli ultimi anni fra gli adolescenti. Una richiesta di consumo che induce i cartelli della droga. In questa città soprattutto gestiti da bande di nigeriani, gli esperti negli ultimi mesi parlano infatti di mafia nigeriana che gestisce le partite di droga da vendere. Secondo, un rapporto ben dettagliato del Parlamento europeo inoltre è dalla fine degli anni 90 che si registra una strategia sempre più aggressiva ed espansionistica nell'invadere nuovi mercati con la messa, appunto, proprio sul mercato di nuove droghe secondo schemi di distribuzione in continua evoluzione. Per tale motivo l'Unione europea fin dalla fine degli anni 90 predispose un piano di finanziamenti per la lotta alle droghe che prevedeva che tali contributi per oltre il 50% venissero destinati per combattere il fenomeno su tre fronti. Il primo fra tutti è quello di sponsorizzare azioni che permettano la riduzione della domanda attraverso un lavoro che deve operare sul fronte della sanità, su quello dell'istruzione, entrare dunque con un'educazione alla prevenzione dell'uso di droghe nelle scuole e sul recupero. Le stesse forze dell'ordine e la magistratura inquirente che tutti i giorni ha a che fare con azioni di repressione del fenomeno dello spaccio ritengono che il problema si può ridurre e contenere attraverso un'educazione accurata dei giovani a non usare le droghe che rendono schiavi gli stessi giovani al fenomeno della dipendenza e nel peggiore dei casi portano a spezzare la vita anche di adolescenti. Intanto passiamo alla cronaca di queste ultime ore perché c'è un arresto per droga da parte dei carabinieri del Norma e della compagnia di Comacchio. I militari hanno sorpreso un 56enne marocchino residente a Mesola. L'uomo operaio è già noto alle forze dell'ordine per reati connessi allo spaccio di droga. Ieri sera, poco dopo le 22 sulla via per Mesola in località Monticelli, è stato sorpreso con 24 grammi di marijuana e 1050 euro in contanti, il provento secondo i militari dello spaccio. Sono scattate poi le perquisizioni nell'abitazione dell'uomo che hanno portato alla luce un altro chilo e 300 grammi di marijuana. L'uomo è stato così arrestato per spaccio di stupefacenti. E adesso torniamo a un fatto di cui abbiamo parlato più volte nelle scorse settimane. Ricorderete che il 23 dicembre scorso la polizia stradale di Altedo durante un controllo sulla A13 aveva scoperto 46 cuccioli di cane vittime di una tratta illegale. Subito ricoverati al canile municipale di Ferrara, le loro condizioni hanno destato preoccupazione a causa della giovanissima età e degli effetti dello stress dovuto alle condizioni di trasporto inadeguate. Nel giro di un paio di giorni il canile ha preso contatti per dare in affido ai primi 10 cuccioli, ma ad oggi alcuni sono in discrete condizioni, una ventina di cuccioli, ma 12 non sono sopravvissuti e 4 sono ancora in terapia intensiva. 10 poi, come dicevamo poco fa, sono stati affidati. In questi giorni i veterinari dell'azienda USL e la veterinaria responsabile sanitaria del canile continueranno ad effettuare giornalieri controlli su tutti i cuccioli presenti e sulla base delle verifiche delle loro condizioni, non appena saranno considerate favorevoli, il canile riprenderà a contattare le persone interessate in breve tempo. Adesso invece cambiamo argomento perché è iniziato ieri il rilascio della nuova carta di identità elettronica da parte del Comune di Ferrara. La procedura avrà carattere sperimentale fino al prossimo marzo. Vediamo. È iniziato ieri il rilascio da parte dell'ufficio anagrafe del Comune di Ferrara della nuova carta di identità elettronica. Lo hanno annunciato in conferenza stampa l'assessore Simone Merli e il dirigente dell'ufficio anagrafe Gianluca Carpanelli. Il nuovo documento di identificazione viene rilasciato ai cittadini italiani, comunitari e stranieri in sostituzione della carta di identità cartacea alle dimensioni di una carta di credito e contiene la foto, i dati del cittadino ed elementi di sicurezza per evitare la contraffazione. È dotato di un microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare, compresi elementi biometrici come le impronte digitali. Il cittadino si rilascia come ora, come per il rilascio della carta di identità cartacea presso gli uffici anagrafici. Compila, predispone il modulo l'ufficiale di anagrafe che acquisisce i dati, oltre che i dati della persona, quindi nascita eccetera, magari già presenti nella nostra banca dati, la fotografia scannerizzata e l'impronta digitale. Dopodiché parte tutta questa documentazione per Roma e la carta di identità viene rilasciata entro sei giorni lavorativi direttamente dai poligrafici dello Stato. Per ora gli uffici interessati al rilascio sono quelli dell'anagrafe di Piazza Veretta e della Delegazione Est del Comune di Ferrara in via Putinati. La procedura di acquisizione dei dati richiederà una ventina di minuti. La carta stampata dal poligrafico dello Stato arriverà a casa dopo sei giorni. La spesa prevista è di poco più di 22 euro. Una possibilità in più che viene offerta, una possibilità che credo che vada nell'ottica dell'innovazione di questo Paese che su tantissime cose continua a rimanere indietro. Noi in questi anni abbiamo cercato di fare alcune operazioni che ci portassero un po' avanti questa della carta di identità elettronica. Prima abbiamo avviato con un po' di ritardo ma finalmente abbiamo fatto la certificazione anagrafica online. Questo è un servizio che va in conto alle disponibilità e alle possibilità dei cittadini. E cambiamo argomento. È stato firmato oggi in municipio un protocollo d'intesa che fissa regole molto precise per rendere ecologicamente sostenibile il cantiere che porterà alla trasformazione del Palaspecchi in corti di Medoro. Vediamo. La ristrutturazione del Palaspecchi finalizzata a trasformarlo nelle corti di Medoro deve essere realizzata seguendo i più rigidi criteri di sostenibilità ambientale. Quelli per esempio che sono stati adottati fino ad oggi e che hanno reso riciclabile la quasi totalità dei materiali di demolizione. Oltre 11.000 tonnellate tra cemento armato e in misura molto inferiore legno, alluminio, ferro e acciaio. Oggi l'amministrazione comunale ha firmato con Acer, azienda Casa Emilia Romagna, con il Fondo Investire e con Vitadello Intercantieri, l'azienda che porterà a termine la trasformazione del Palazzo degli Specchi, un protocollo d'intesa che fissa i criteri da seguire. Criteri che sono ormai legge per i grandi appalti pubblici ma che vengono adottati a Ferrara anche per un cantiere privato di enormi dimensioni come quello che porterà alla realizzazione delle corti di Medoro. Un modo di lavorare che vuol dire che si cerca di recuperare il più possibile, reimmettendo i materiali di esito delle demolizioni nella filiera produttiva e quindi abbiamo sentito oggi come il ferro verrà poi tutto riutilizzato, il materiale, il cemento verrà riutilizzato, quasi il 98% di ciò che è stato portato fuori da quel cantiere verrà riutilizzato. Quindi vuol dire che rientrerà in quell'economia circolare, diventeranno dei prodotti che verranno trasformati da delle imprese all'interno di questo raggio di 50-60 km in cui sono state spostate queste materie, quindi anche molto vicine. Nel nostro territorio abbiamo quindi capito anche oggi che ci sono delle capacità produttive di lavorazione sui materiali da costruzione per il loro riciclo. Oggi possiamo dire che sono stati prodotti 11.700 tonnellate di materiali derivanti dalla demolizione selettiva e di questi materiali ciò che si può affermare oggi, anche se il dato non è definitivo, è che circa il 98% sono entrati nella filiera del riuso, di cui tra l'altro quasi tutti in centri di raccolta qui nella zona di Ferrara, quindi con un bassissimo consumo in termini di gasolio e di trasporti, impatto ambientale molto ridotto da questo punto di vista. Lei ha detto che Acer continuerà a utilizzare questo metodo? Sì, il prossimo cantiere che sarà quello del recupero di 26 alloggi di via Fiume adotterà lo stesso criterio dei CAM, questi criteri ambientali minimi previsti da questa recentissima normativa perché anche in questo caso la demolizione porterà con sé il recupero del materiale derivante dalla demolizione e verrà riutilizzato anche per la ricostruzione e, come dire, la riqualificazione dell'intero stabile di via Fiume. Adesso invece parliamo di scuola perché sono iniziate in questi giorni le operazioni di iscrizione al nuovo anno scolastico 2019-2020. Da lunedì 8 gennaio le famiglie possono registrarsi al portale del MIUR dedicato alle iscrizioni per le classi prime delle elementari, delle medie e delle superiori. Successivamente, dalle ore 8 del 16 gennaio alle 20 del 6 febbraio, sarà possibile fare l'iscrizione vera e propria. La procedura online è valida anche per iscriversi ai corsi dei centri di formazione professionale regionali per le regioni che hanno aderito, mentre per la scuola dell'infanzia l'iter resta al momento cartaceo. Per le paritarie l'adesione al sistema di iscrizione online e facoltativa e fra le novità per chi si affaccia alle superiori ci sono i nuovi indirizzi quadriennali e sperimentali che debutteranno a settembre. Il servizio. A Ferrara sono tra gli istituti di istruzione superiore ammessi dal Ministero la sperimentazione di un diploma quadriennale, un liceo e due istituti tecnici che partiranno il prossimo anno scolastico con una classe che porterà i propri iscritti a conseguire il diploma dopo quattro anni. Una novità questa di cui si parla da tempo e di cui esistono già sperimentazioni fatte su richiesta di alcune scuole in alcune città italiane. Dal prossimo anno la sperimentazione vedrà ben cento scuole impegnate sul diploma quadriennale. A Ferrara vi partecipano il liceo linguistico paritario Smiling, l'istituto tecnico Leotti e l'istituto tecnico Itti Copernico Carpeggiani. E proprio per illustrare la sperimentazione del diploma quadriennale in cantieri, ambiente e territorio, l'istituto tecnico Leotti ha indetto un incontro venerdì alle 18 presso l'istituto con i presidi e i docenti delle medie inferiori, gli studenti interessati e le loro famiglie. Nel corso dell'incontro i professori e il preste della Leotti informeranno i genitori anche della seconda sperimentazione in partenza nel prossimo anno scolastico presso l'istituto, una sperimentazione concessa dalla Regione e dalla provincia del Ministero per formare una nuova figura professionale di esperto in gestione delle acque e risanamento ambientale. Questo inizio d'anno in ogni caso vede un milione e mezzo di studenti impegnati nell'operazione di iscrizione. Da ieri, lunedì 7 gennaio, le famiglie possono registrarsi al portale del MIUR dedicato alle iscrizioni per le classi prime delle elementari, medie e superiori. Successivamente, dalle ore 8 del 16 gennaio alle 20 del 6 febbraio 2018, sarà possibile fare l'iscrizione vera e propria. Intanto, sempre parlando di scuola, vi ricordiamo che anche quest'anno il Ministero dell'Istruzione ha realizzato uno spot di servizio per dare informazioni utili alle famiglie che sarà diffuso sui canali social del MIUR e trasmesso anche dalla RAI. E per chi è ancora indeciso sulla scelta della scuola o dell'indirizzo, c'è il portale Scuola in chiaro con le schede sintetiche su tutti gli istituti scolastici, i principali dati, l'offerta formativa in chiaro e i rapporti di autovalutazione delle scuole che contengono anche punti di forza e obiettivi di miglioramento. Adesso invece cambiamo argomento, parliamo di cultura, matrimoni nella reggia di Caserta, concerto dei Pink Floyd al Colosseo. Se i numeri dei visitatori che accedono ai musei crescono, non mancano però le polemiche su come questi musei culturali vengano a volte utilizzati. Polemiche che non appassionano l'assessore alla cultura del comune di Ferrara, Massimo Maisto. Lo sentiamo. Ho visto naturalmente il boom dei musei, questo risultato è importantissimo, però come sempre non è mancata la nota polemica per quanto riguarda, in particolare nei confronti del ministro Franceschini, cioè per aver reso un po' troppo pop alcuni luoghi della cultura, dai matrimoni a Caserta, al concerto dei Pink Floyd al Colosseo e così via. Da questo punto di vista è anche Ferrara rispetto a questo come si pone? Io non sono d'accordo con questa polemica, la trovo anche un po' stucchevole, nel senso che i due metodi di lavoro non sono contrapposti, si devono armonizzare. Ferrara nel esempio, noi facciamo l'incendio del castello da tanti tanti anni, da più di 10-15 anni, però facciamo anche la mostra su Bononi o tuteliamo i nostri archivi, l'archivio Caretti, le associazioni di base e quindi si può fare l'uno e l'altro. Io credo che questo boom dei musei sia una grande notizia, un'ottima notizia, in Italia ci lamentiamo del calo di lettori, del calo della partecipazione culturale, una notizia di questo tipo è importante. Credo che le sovrintendenze, i direttori e i responsabili abbiano tutte le capacità per mantenere una linea che è giusta mantenere, che è quella della qualità. Come in tutti i musei del mondo si possono fare iniziative anche che raccolgano finanziamenti rispettando il museo e anzi per rilanciare la tutela del museo. Ricordiamo che il vice sindaco Maisto oggi era presente a una conferenza relativa al conservatorio di Ferrara, ricordiamo che nove lievi del conservatorio Frescobaldi infatti hanno partecipato a un corso di formazione presso il CET, ovvero la scuola di alto perfezionamento musicale dell'autore mogol. Ne parleremo nelle prossime edizioni del TV Giornale e anche sul nostro sito internet che vi ricordo è sempre telestense.it con la possibilità di seguirci anche tramite social, siamo su Facebook, Twitter, Youtube e Instagram. Grazie ancora una volta per averci seguito, appuntamento rinnovato alla prossima edizione. Grazie a tutti.